Mettetevi comodi, inizia un viaggio di mille emozioni. Iniziamo con una piacevolissima e rinfrescante sosta alle cascate. Il viaggio prosegue alla scoperta della fantastica Val Maone. Andremo all'interno della famosa Grotta dell'Oro e poi, sempre dritti, fino al Rifugio Garibaldi. Facciamolo insieme. La Val Maone offre una rilassante passeggiata immersi nella natura e ti incanta per la sua bellezza. Prendiamo un sentiero sulla destra che conduce alla famosa Grotta dell'Oro. Un momento davvero suggestivo. Sembra di essere in un film di Indiana Jones. All'improvviso si guasta un po' il tempo. Nulla di grave. Fuori i poncho e continuiamo il percorso. Uno spazietto rinfrescante per la nostra zira. Il tempo di un po' di riposo accompagnato da un veloce spuntino. Torna a farsi vedere qualche raggio di sole. Riponiamo i poncho e proseguiamo il nostro cammino. Ad un tratto mi fermo e mi giro a guardare dietro. Che splendore! Giunti nell'alta Val Maone, quota circa 1950 metri, troviamo le capanne! Antichi ricoveri per pastori in pietra. Ciao! Il cammino continua e davanti a noi c'è una vista da mozzare il fiato. Ultimo bivio che ci consente di arrivare al Rifugio Garibaldi. la nostra meta. Ancora un paio di tornanti, un po' di neve, circa 20 minuti e siamo arrivati. Zira incontra qualche amichetto e lasciamo qualcosa per mangiare, come da buona regola. È ora di ritornare. Il cammino è stato magnifico. Buona natura e buona avventura a tutti! Grazie! 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 Grazie!